I motorini potranno sempre entrare nel centro storico secondo le regole esistenti, semplicemente non potranno attraversare il lungarno archibusieri e il lungarno acciaioli. Lo ha voluto specificare in modo chiaro il sindaco Dario Nardella, con la nuova rivoluzione della viabilità da sabato 5 settembre, anche i lungarni degli archibusieri e dei medici, come già è diventato dal 22 luglio scorso il lungarno degli acciaioli, saranno pedonalizzati. Questo eviterà gran parte dei 2 milioni e 500 mila passaggi di veicoli a motore. Potranno passare solo i residenti nelle corrispondenti aree pedonali, ma solo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 20. Potranno sostare al massimo per 15 minuti per carico e scarico e per salita e discesa dei passeggeri. I fiorentini e i non fiorentini vedranno una Firenze più bella, perché questa è la pedonalizzazione del più bel lungo fiume che esista al mondo. Ma non possiamo solo essere orgogliosi delle nostre bellezze artistiche e poi accettare che ogni anno passino da quei luoghi 2 milioni e mezzo di veicoli. Per questo noi facciamo un'operazione di rispetto per la storia della città, per la sua bellezza, con delle soluzioni di mobilità che non penalizzeranno i residenti e che comunque consentiranno delle soluzioni alternative a chi ha bisogno di attraversare il centro. Sabato 5 inizierà la pedonalizzazione dalle 11.30 con una grande pedalata sul Lungarno e da lì partirà la pedonalizzazione.